Ciao a tutti, dopo 7 anni le nostre strade si rincontrano. Sarà un'emozione forte e anche una sensazione strana, in quanto sarà per la prima volta d'avversario. Comunque contento perché ci si incontrerà in un campionato di Serie B, dove sia il Venezia che la Salernitana finalmente sono riuscite a conquistare. Noi quest'anno da neopromosse, voi ormai siete da qualche anno in categoria. Quindi un in bocca al lupo per l'intera stagione, un saluto al Salerno Club 2010 e a tutti i tifosi Granata.